Sono veramente euforico, a parte scherzi, amici di PassioneInter.com ben ritrovati, subito a caldo, appena finito questo Inter-Brescia 6-0, punteggio tennistico. In questi giorni abbiamo sempre detto, serve una grande prova, serve una grande reazione, una prova da grande squadra, una vittoria convincente dell'Inter contro il Brescia. Oggi ci aspettavamo soprattutto una prova in cui dare continuità, dopo la vittoria non esaltante contro il Parma, è arrivato tutto insieme. La partita praticamente perfetta, con qualche piccola nota negativa, se proprio vogliamo essere critici. C'è sempre ovviamente da migliorare, qualche disattenzione un po' di troppo in difesa, un rischio subito sullo 0-0, qualche leggerezza che di sicuro non ha fatto piacere a Mister Conte. Comunque soddisfatto di una grandissima vittoria e la prova, diciamo, opaca di un Lautaro Martinez, di cui parleremo tra pochissimo, leggendo anche quelle che sono le pagelle curate dalla nostra redazione. Hanno segnato praticamente tutti, sono rimasti a secco quelli che sono i due più grandi bomber dell'Inter di questa stagione, ovvero Luca con Lautaro Martinez. Quindi se vogliamo proprio essere critici, questa è l'unica nota negativa, unita a qualche disattenzione difensiva, che però finalmente ha portato ad un clean sheet che in questo 2020 di fatto era mancato praticamente sempre. Quindi queste sono le buone, le cattive, diciamo così, tra virgolette, notizie di una partita comunque estremamente positiva. I voti delle pagelle curate dal nostro Simone Frizza vanno in questo senso qua, vanno a sottolineare una prova veramente super dell'Inter con Samira Andanovic che prende 6, voto 6 per il portiere che di fatto non è stato impegnato quasi mai, diciamo, essendo lo stadio San Siro vuoto, l'unico spettatore è stato Andanovic. D'Ambrosio prende 7, qualche piccolina incertezza in difesa però ha avuto il merito anche di segnare chiudendo di fatto i conti sullo scadere del primo tempo e in generale ha fatto una buona partita ordinata. Siamo molto contenti per D'Ambrosio, sicuramente un innesto, un rinforzo importante per questo finale di stagione dopo qualche problema fisico. De Frey prende 6,5, è riuscito a contenere molto bene Donnarummo, un cliente scomodo però sulle spalle si è preso anche un giallo un po' ingenuo. Ranocchia prende 6,5, è entrato con una buona personalità con la partita già in ghiaccio ma ci ha messo tanto del suo. Stesso voto 6,5 anche per Alessandro Bastoni quindi ancora una prova positiva, lo stiamo vedendo anche molto in proiezione offensiva, speriamo che sia un buon segnale che stia crescendo bene anche da questo punto di vista. Veniamo però nel reparto offensivo che è quello che ha reso meglio in cui Victor Moses oggi mattatore assoluto, uno dei migliori in campo sicuramente, prende 7,5 nelle nostre pagelle di Passione Inter.com curate dal nostro Simone Frizza, praticamente sulla destra aveva una prateria e l'ha sfruttata la grandissima. Candreva 6,5, entra molto volenteroso in campo al 67 al posto di Moses, colpisce prima una grande traversa e poi segna anche con un bel gol. Barella 6,5, solita partita di grande quantità, 6,5 anche per il giovanissimo Agumet, è entrato anche questa volta con buona personalità, buoni segnali anche da lui. Sfilza di 6,5 perché anche Borca Valero prende questo voto qui, ha dato anche qualche lampo di grande classe, qualche errorino in contropiede, però un giocatore ha fatto una prestazione importante. Un voto che forse può far discutere perché all'intervallo, nella diretta Instagram dell'intervallo, in molti avevano criticato duramente Gagliardini dopo anche le prestazioni delle ultime settimane e oggi nelle nostre pagelle Gagliardini prende 7. Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con il voto del nostro Simone alla prestazione di Gagliardini. Eriksand prende 6,5, ha di fatto chiuso anche lui la gara con il gol nel finale. Poi Young, 7,5, aveva fatto un bruttissimo errore all'inizio gara che rischiava di regalare un gol al Brescia, ma poi si è rifatto la grandissima, segnando innanzitutto il vantaggio. Poi serve anche l'assist per D'Ambrosio ed in generale un'ottima prova quella di Ashley Young. Il migliore in campo però per Simone e per le pagelle di PassioneInter.com è Alexis Sanchez perché è stato un mattatore assoluto, grande protagonista. Anche qui, da oggi, chi ci seguiva su Instagram e nel nostro gruppo Telegram di PassioneInter.com sono sempre più convinto, voglio lanciare una sorta di campagna in favore di Alexis Sanchez. Secondo me sarebbe il terzo attaccante perfetto da inserire nella rosa dell'Inter, per cui spero vivamente che si possa riuscire a trattenerlo anche per la prossima stagione. Mi spenderò per portare avanti questa campagna. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate nei commenti. Infine, dicevamo la prova opaca di Lautaro Martinez, che infatti è il voto più basso di giornata perché prende 6, Lautaro. È stato anche un po' sfortunato, ma si vede, non è il suo periodo. Alcuni gol che solitamente sarebbero entrati stasera non gli sono entrati. Lukaku invece prende 6 e mezzo perché pur giocando, pur subentrando, entrando al 67esimo, non ha segnato, però nel gol di Eriksen c'è tanto di Lukaku. Ragazzi, io vi lascio in descrizione il link per leggere le pagelle, così se non vi è chiaro qualche voto potete andare a rileggerlo, potete commentarlo. In descrizione trovate anche un link per votare il migliore in campo. Io vi consiglio di farlo direttamente qui nel link oppure sul canale telegramdipassioneinter.com. I primi tre giocatori più votati prenderanno dei punti per scalare la classifica stagionale e come sapete a fine stagione andremo ad eleggere il migliore in campo, il migliore della stagione dell'Inter, grazie ai vostri voti. Prima di salutarvi vi invito a lasciarci un commento, fateci sapere se siete d'accordo con i nostri voti, lasciateci un feedback, aiutateci, sosteneteci. Abbiamo raggiunto il grande traguardo dei 4.000 iscritti sul canale YouTube, quindi vi ringrazio infinitamente per il vostro sostegno. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi, iscriviti anche tu se ancora non ti sei iscritto, attiva la campanella e tutti i giorni siamo in diretta alle 19.00, per cui seguiteci perché tutti i giorni commentiamo e vi diamo anche le tante anticipazioni di mercato e soprattutto rispondiamo sempre alle vostre domande. Mi raccomando, iscrivetevi.